Tanti siamo sulle manine, sulle manine! Tutti, tutti, tutti! Buonasera! Sì, parla il fratello di Valle De Mastroieni Parla da vent'anni di Jay Spank Parla colui che per sei mesi non le ha festeggiato il diciottesimo compleanno Ma l'abbiamo fatto in chiesa Per colpa di uno sballato che ancora non si sa realmente chi è In una strada di 150 metri Andiamo a comandarlo Andiamo a pensare Si salta, si salta E le mani le basse nel musico, non le vedo, non le vedo, sono i ritmi della strada Usiamo anche le mani nella testa per firmare Le mani nella testa funzionano a metà, ogni tanto parte un suono che fa Ragazzi, mettete le vostre firme come razzi! Non so se sono pazzo o sono un genio Faccio i selfie, ma sì Alla voi perché io non mi fumo carne Sono un distemio Io non faccio brutto E allora dopo questo spazio vedremo altri filmati E poi continuiamo Con altre due o tre canzoni Continuiamo a saltare E poi the soda Lei non berspanniamo Io non pensé No, non sei No, non sei Sì, 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 sì. Ma dire qua amore. Sì, come on. Allora facciamo l'ultimo just dance, intanto passiamoci giù, 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 giù. Andiamo la mano frontale, frontale così facciamo un po' di... Così volete? Giù, 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 giù. Con lei che sta le scene pronti? Salto! Salto, salto, volume DJ, volume DJ! Vai 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 che cambia Facciamo quindi Questa palla assieme a quest'altro just dance E poi vediamo il filmato numero 8 E poi vediamo il filmato numero 8 Le mani, le mani di questo bel pubblico Dove sono? Diamo i pipi Non li sento, non li sento Sì I'm alive, no I'm alive, non era messinese trasformato I'm alive, io sono ancora vivo I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive In love in every second, minute, I will see I'm alive, yeah E' un figlio Grazie a tutti!